Tra i frutti da raccogliere in autunno ci sono quelli del bagolaro, bagolaro o spacca sassi in italiano, il nome invece botanico è Celtis australis e è una pianta appartenente alla famiglia delle cannabace. È una pianta arborea che diventa molto alta, adesso vi faccio vedere il tronco, tronco che è proprio tipico, è un tronco liscio molto compatto di questo colore grigio cinereo, vedete diventa anche molto alta. Viene chiamata anche spacca sassi perché è presente in tutta Italia e con le sue radici, radici che si ancorano molto bene al terreno, riesce a crescere anche veramente i luoghi impervi e anche molto aridi. Quindi è una pianta anche con un fusto molto elastico, quindi resiste benissimo alle interperie, resiste a temporali, non è una pianta che si spacca quindi si può anche piantare vicino alle case, ad esempio. Invece il nome bagolaro fa proprio riferimento ai frutti, guardatele qua, che sono queste drupe nere, inizialmente sono gialline, mi metto non in controluce così vedete il colore. Inizialmente dicevo sono gialline quando non sono mature, vedete? E poi diventano nere e quando sono nere sono proprio da raccogliere, sono dei frutti stra 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 buoni. Ho già detto che sono buoni, veramente hanno questo sapore che secondo me è misto, mela insieme però ai datteri, è eccezionale. Ecco io ne raccolgo tantissimi perché tanto nessuno sa che si mangiano quindi me li fanno cadere tutti e le strade da settembre, da fine settembre per tutto ottobre diventano piene di queste magnifiche e preziosissime drupe nere. Sono dei gioielli e le raccolgo per diversi motivi. Uno perché secondo me negli infusi ci stanno da dio e vanno a sostituire lo zucchero, danno la quota diciamo dolce negli infusi. Poi ci faccio una grappa buonissima che ai corsi è una delle prime che mi finite perché è stra buona. Ci faccio una tintura madre con altri frutti autunnali per rafforzare il sistema immunitario. Magari la ricetta della tintura madre che faccio oltre che con questo anche con altre botaniche ve la metto nella sezione abbonati ed è una tintura madre che trovo che sia utilissima per rafforzare proprio il sistema immunitario. Oltre che buonissima. Ecco quindi sono frutti che io raccolgo e mangio. Vabbè si possono mangiare anche direttamente su stra buoni solo che hanno un seme che è enorme. Ecco c'è anche chi ci fa la marmellata io ce l'ho fatta una volta per non farla mai più perché è un lavoraccio e non vale la pena. Vale proprio di più la pena essiccarli e usarli poi negli infusi, nelle grappe, nei liquori o per addolcire perché hanno questo sapore magnifico. La pianta si riconosce perché ha queste foglie, foglie che vedete come sono belle ovali. Le faccio vedere. Hanno, si vede molto bene la nervatura primaria, quella secondaria e si vedono anche leggermente quelle terziarie. Le foglie sono seghettate, hanno la parte superiore che è bella scariosa. E questa è invece la faccia posteriore. E questi dicevo sono i frutti, frutti che nessuno raccoglie per mia fortuna o sfortuna nel senso che comunque io quando le vedo tutti al suolo mi dà un dispiacere veramente. Ecco, in Bresciano questa viene chiamata Romiglia ed è in assoluto la mia pianta preferita. Uno per la bellezza perché quando diventa grande, quando ha 15-20 anni diventa una pianta di una eleganza veramente. E poi vabbè è una pianta resistentissima che cresce sul niente. È una pianta magnifica. In primavera invece, dato che io ho della Romiglia, la chiamo in Bresciano scusate ma è una pianta dell'infanzia. Il bagolaro lo adoro. Mangio anche le foglie. Quindi in primavera io mangio le foglie più tenere in insalata. Non queste qua coriacee ovviamente perché queste qua adesso sono dure, mazzate quindi non riuscite a mangiarle. Volendo potreste fare però un decotto, un infuso, a seconda di cosa volete estrarre, perché ha anche delle proprietà disinfettanti, antibiotiche e soprattutto astringenti. Quindi ad esempio l'infuso è ottimo in caso di diarrea, per dire. Eccolo qua, quindi questo è il nostro bagolaro. Celtis australis, sempre famiglia delle cannabacee, famiglia che ha delle piante veramente sorprendenti per gli utilizzi sia fitoterapici che alimentari.